Il Vigile del Fuoco A quasi un anno dalla cruente rapina in banca consumata a Comiso il 18 febbraio scorso, la Polizia di Stato ha individuato uno dei responsabili, si tratta del 36enne catanese Antonio Infantino. Individuati dalla Polizia Giudiziaria quattro scafisti che erano a bordo di altrettanti gommoni, sui natanti complessivamente 481 migranti partiti dalla Libia, soccorsi e portati al porto di Pozzallo. Il sindaco di Vittoria Giuseppe Nicosia torna a lanciare l'allarme sul recente crollo dei prezzi di prodotti ortofrutticoli. È tempo di risposte, ha detto rivolgendosi ai parlamentari. La FLC CGL di Ragusa torna sulla vicenda della sospensione dei servizi di trasporto ed assistenza specialistica per 160 allunni diversamente abili. Situazione inaccettabile, dicono. Ben trovati all'appuntamento con la nostra informazione. Oggi in apertura ci occupiamo dei funerali del vigile del fuoco vittoriese Giorgio Sailanti, assassinato domenica sera davanti casa. Per lui i funerali con picchetto d'onore. Si sono svolti ieri i funerali di Giorgio Sailanti, vigile del fuoco assassinato domenica sera mentre parcheggiava l'auto sotto casa sua in via Guido de Ruggero. A partecipare una folla commossa di familiari, amici, colleghi e fratelli della chiesa evangelica frequentata dalla famiglia Sailanti. Momenti di commozione sono stati vissuti quando la bara è stata adagiata su un camion dei pompieri e prima di procedere verso la chiesa, tutte le camionette presenti hanno suonato le sirene per salutare un'ultima volta il collega. Tantissime anche le persone che attendevano Sailanti rettamente in chiesa. Dobbiamo rivolgerci a Dio con tutto il cuore, ha detto il pastore Giovanni di Francia, e lasciare il peccato che porta soltanto alla rovina e alla tragedia. A dominare ogni momento della funzione, il dolore di chi lo conosceva e lo sgomento per quanto accaduto. Sailanti, lo ricordiamo, era appena tornato da lavoro quando, come ricostruito dalle indagini della procura, coadiuvata dalla polizia di Stato e dai carabinieri, il suo assassino lo ha affiancato e lo ha affreddato con un colpo di fucile. Al responsabile, l'imprenditore Filippo Assenza, gli inquirenti sono arrivati incrociando le immagini catturate dalle telecamere di videosorveglianza private presenti nella zona ed i dati del telefonino della vittima. Assenza riteneva che Sailanti avesse una relazione con la moglie e per questo gli ha esploso contro un colpo di fucile. L'uomo ha subito ammesso le sue responsabilità, ma in queste ore ha dichiarato che non era a sua intenzione uccidere Sailanti, ma che avrebbe sparato solo per spaventarlo. Di parere opposto, ovviamente, la procura, che potrebbe puntare ad accusare l'uomo di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione. A quasi un anno dalla cruenta rapina in banca consumata a Comiso il 18 febbraio scorso, la Polizia di Stato ha individuato uno dei responsabili. L'occhio vigile degli investigatori ha permesso di riconoscerlo come autore di un'altra rapina consumata in provincia di Agrigento. Individuato dopo quasi un anno di indagini, uno dei rapinatori che il 18 febbraio dello scorso 2015 hanno messo a segno una rapina ai danni del credito siciliano di Comiso. Secondo quanto emerso dalle indagini condotte da personale di polizia appartenente alla squadra mobile e dal commissariato di Comiso, due persone, di cui una travisata, erano entrate nell'istituto e avevano rubato circa 5.000 euro. Gli agenti avevano acquisito i fotogrammi ripresi dal sistema di videosorveglianza dell'istituto di credito. Le immagini ritraevano il primo rapinatore che, avviso scoperto, faceva ingresso nella banca per poi coprirsi il volto dopo aver fatto entrare anche un suo complice già avviso coperto. Proprio dalla visione dei fotogrammi si notava chiaramente che il malfattore risulta avere un particolare evidente, il naso tipo pugile, cioè con una sagoma schiacciata. Le indagini sembravano essere a un punto morto quando, il 27 maggio scorso, un ispettore di polizia, attraverso i sistemi di scambio dati tra le varie questure, veniva a conoscenza che a Favare hanno stati arrestati 5 soggetti di origine catanese, tra cui una donna, tutti in flagranza di reato per una rapina perpetrata ai danni della banca nuova. Della visione delle foto segnaletiche dei 5 malfattori, l'attenzione dell'ispettore era attirata dal volto di Antonio Infantino, catanese di 36 anni, le cui caratteristiche somatiche erano perfettamente corrispondenti a quelle del rapinatore di Comiso. A confermare la tesi dell'ufficiale, anche i tabulati telefonici dai quali risultava che il giorno della rapina, Infantino si trovava a Comiso. Benché disarmato, il rapinatore aveva agito con violenza, raggiungendo uno dei cassieri ed afferrandolo brutalmente per il collo, tentando di strangolarlo, allo scopo di farsi consegnare il denaro presente nelle casse. Infantino è stato quindi arrestato ieri pomeriggio dalla Polizia di Stato, in esecuzione di una misura di custodia cautelare in carcere. Operazione antidroga dei carabinieri a Santa Croce e Camerina, arrestate tre persone, tutte residenti a Vittoria e con precedenti penali. I tre sono stati fermati in auto per controlli e all'interno un involucro con 30 grammi di cocaina. Nel corso di un'operazione antidroga nel territorio di Santa Croce e Camerina, i carabinieri hanno arrestato tre vittoriesi. A bordo dell'auto, fermata infatti per controlli, c'era un Antonino di Modica, 43 anni, il figlio Aurelio di Venti, e il giambassista Cicciarella Coetaneo, residenti a Vittoria con precedenti penali e reati specifici in materia di spaccio di stupefacenti, ad insospettire subito i militari l'incrocio della banca dati delle forze dell'ordine, i cui i tre risultavano infatti gravati da pesanti reati. Si è quindi proceduta alla perquisizione dell'auto e così, dopo aver smontato parte dell'autovettura, una Fiat Punto, in una intercapedina ricamata sotto il piantone dello sterzo, i carabinieri hanno scoperto un involucro contenente circa 30 grammi di cocaina, pronta ad essere suddivise in dose e quindi ad essere spacciata al dettaglio. I tre sono stati fermati, tra l'altro, in una località nota per essere il ritrovo di personaggi dedita allo spaccio di stupefacenti, droga verosimilmente da spacciare al mercato di Vittoria e da dove i tre provenivano in quel momento. Rapina a mano armata la scorsa sera a Vittoria, due malviventi a volto coperto sono entrati in azione all'interno di un negozio di Vianeghelli periferia cittadina armati di pistola e sono fatti consegnare dal titolare il denaro contenuto nella cassa, circa 3 mila euro. Quindi sono dati alla fuga, forse a bordo di un auto che li aspettava poco distante dal luogo della rapina. I carabinieri intervenuti sul posto sperano di ricavare elementi utili dalle immagini della videosorveglianza oltre a sentire i racconti di alcuni testimoni. Un intervento per sgominare una rapina e un altro intervento per salvare la vita di un giovane aspirante suicida. Questi gli interventi registrati ieri ad opera dei carabinieri della Compagnia di Ragusa impegnati in un pomeriggio piuttosto intenso. Pomeriggio intenso per i carabinieri della Compagnia di Ragusa impegnati a scongiurare una tentata rapina ed a salvare un giovane aspirante suicida. Il primo intervento in ordine di tempo ha riguardato l'allarme scattato per una rapina all'agenzia di Via Archimede dell'Istituto Banco Popolare Siciliano dove due ignoti malviventi con il volto travisato da sciarpe hanno fatto irruzione minacciando con una pistola clienti e impiegati che poi sono stati anche rinchiusi in una stanza dell'Istituto di Credito. Subito dopo i rapinatori hanno minacciato il direttore dell'agenzia imponendogli di aprire la cassaforte. Dopo essere rimasti in banca per diversi interminabili minuti i malviventi si sono resi conto che non era possibile aprire le casse perché le stesse erano dotate come quelle ormai di tutti gli istituti di credito di un'apertura temporizzata che avviene soltanto dopo un certo periodo di tempo senza possibilità di intervento da parte del personale. Nel frattempo però sul posto stavano già convergendo tutte le pattuglie dell'arma in quel momento presenti sul territorio avvisate tramite la segnalazione d'allarme da parte della banca che parte in maniera automatica in caso di rapina. A quel punto i malviventi per non correre il rischio di restare intrappolati all'interno sono fuggiti a mani vuote. Sono comunque scattati posti di blocco nelle principali vie cittadine per bloccare ogni via di fuga ai rapinatori. Gli investigatori stanno ora studiando le immagini delle telecamere di videosorveglianza sia dell'Istituto di Credito che del centro cittadino. Sempre ieri nel tardo pomeriggio un carabiniere libero dal servizio ha salvato uno studente ragusano di 15 anni che ha tentato di lanciarsi dal ponte vecchio. Il militare è intervenuto all'istante bloccando letteralmente il giovane proprio nel momento in cui si stava lanciando dal ponte. Lo stesso carabiniere è riuscito poi a calmarlo in maniera tale da fargli superare il momento di estremo turbamento. Nel frattempo il militare provvedeva anche a chiamare i soccorsi e in poco tempo giungeva sul posto un'ambulanza del 118 che prestava le prime cure al ragazzo trasportato al pronto soccorso dove è stato riaffidato ai suoi genitori il cui affetto certamente sarà la migliore cura per fargli superare questa difficile fase della sua adolescenza. La Guardia di Finanza di Ragusa ha denunciato quattro soggetti per indebita percezione di fondi di sostegno dell'imprenditoria per un totale di 90.000 euro. Si tratta di tre imprese di Modica e una di Scicli. I finanzieri del Comando Provinciale di Ragusa hanno denunciato alla Procura della Repubblica tre modicane ed uno sciclitano per avere percepito indebitamente finanziamenti pubblici erogati come sostegno all'avviamento di nuove imprese commerciali e artigianali. In pratica le Fiamme Gialle della tenenza di Modica hanno scoperto una serie di truffe poste in essere dalle quattro ditte, tutte individuali. Ditte che, secondo le Fiamme Gialle, hanno beneficiato di specifici contributi pubblici per realizzare e avviare attività imprenditoriali senza mantenere però i requisiti minimi stabiliti dalla legge. Quindi, dopo aver ottenuto le agevolazioni per una somma complessiva di circa 90.000 euro, hanno cessato anticipatamente le attività senza effettuare le dovute comunicazioni all'interrogatore dei finanziamenti, in questo modo nascondendo di fatto la perdita dei requisiti che avrebbe comportato la restituzione delle agevolazioni. I quattro imprenditori sono stati quindi definiti alla Procura della Repubblica per truffa, finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche e le stesse Fiamme Gialle hanno avanzato anche la richiesta di recupero delle somme indebitamente percepite. La Polizia individua e ferma a Pozzallo quattro scafisti che erano a bordo di altrettanti gommoni allo stesso tempo e già sulle tracce degli equipaggi di altri due gommoni arrivati nelle ultime ore sulle coste Iblee. A bordo di quattro gommoni salpati insieme dalle coste Libiche c'erano 481 migranti, con loro anche quattro scafisti già individuati e fermati dalla Polizia mentre si cercano attivamente gli equipaggi di altri due gommoni. I quattro fermati sono Maghet Gic, senegalese di 22 anni, Yaya Daaf, 20 anni, originario della Guinea, Sardiali, 23 anni, senegalese, e Christian Agbor, 22 anni, nigeriano. Le indagini non sono ancora concluse mentre si sono definite le procedure di identificazione e nelle prossime ore arriveranno a Pozzallo circa 230 migranti dalle ultime notizie pare che a bordo del natante vi siano anche dei feriti. Ad avvistare i riquattro gommoni la nave della Marina Militare Comandante Bettica che si muove come noto nell'ambito dell'operazione Mare Sicuro. Dopo l'avvistamento nel canale di Sicilia dei gommoni il conseguente trasbordo dei profughi la navigazione alla volta di Pozzallo dove la nave è arrivata in serata. Quindi la consegna alle autorità marittime di Polizia del Carico che ha proceduto alle varie operazioni di identificazione e trattamento sulla situazione igienico-sanitaria. La maggior parte di loro è stata poi trasferita verso il centro di prima accoglienza mentre il rimanente è stato trasferito in altri centri. E col fermo di questi quattro scafisti sale a sei il numero di trafficanti di vite umane sul canale di Sicilia. Una notizia di giudiziari adesso si alleggerisce la posizione di Riccardo Minardo l'ex deputato regionale modicano coinvolto nel processo sui falsi invalidi. Il giudice ha infatti disposto nei suoi confronti di non utilizzare la consulenza effettuata su incarico della Procura e in base alla quale sarebbero risultate delle percentuali di invalidità gonfiate rispetto a quelle realmente attribuite. La stessa consulenza sarebbe quindi stata depositata ben oltre i termini di chiusura delle indagini preliminari. Il sindaco di Vittoria torna a lanciare l'allarme sul recente crollo dei prezzi dei prodotti ortofrutticoli e tempo di risposte ha dichiarato e invito i nostri parlamentari a prendere a cuore il problema che interessa migliaia di operatori agricoli. Il sindaco di Vittoria Nicosia torna ad occuparsi delle turbulenze attorno al comparto agricolo della fascia trasformata e nello specifico puntando l'attenzione sul recente crollo dei prezzi dei prodotti ortofrutticoli. Lancia un appello e sordisce Nicosia invitando i parlamentari nazionali e regionali ed europei della nostra zona ad interessarsi della questione proponendo una forte decisazione di sensibilizzazione nei confronti dei rispettivi governi. I prezzi, proseguendo Nicosia, hanno raggiunto un livello insostenibile e nessun controllo viene effettuato per proteggere i nostri prodotti ortofrutticoli dall'invasione di quelli stranieri. La filiera della distribuzione e della commercializzazione sta massacrando migliaia di imprese agricole e la politica nazionale non può restare insensibile al grido di dolore e di protesta agli operatori del comparto. Il sindaco di Vittoria si rivolge quindi a tutti coloro che hanno partecipato di recente alle assemblee organizzate da comuni agricoltori ma anche a chi fa parte del suo partito, il PD, alle forze di governo, a quella di opposizione e a chi è venuto di recente a visitare il mercato ortofrutticolo ivi compreso lo stesso assessore regionale Antonello Cracolici. Al di là della vicinanza degli operatori conclude il primo cittadino adesso è tempo di dare risposte e il momento di agire altrimenti si conteranno solo ennesime aziende costrette ad arrendersi. La FLC CGL di Ragusa torna sulla vicenda della sospensione dei servizi di trasporto e assistenza specialistica per 160 alunni diversamente abili. Situazione inaccettabile, dicono, per la quale lo Stato dovrebbe predisporre le adeguate misure di sostegno. Il diritto allo studio degli alunni con disabilità si realizza attraverso l'integrazione scolastica che prevede l'obbligo dello Stato di predisporre adeguate misure di sostegno alle quali concorrono a livello territoriale e con propria competenza anche gli enti locali e quanto afferma la FLC CGL Ragusa che ritiene pertanto inaccettabile la sospensione dei servizi di trasporto e assistenza specialistica che garantirebbero il diritto allo studio ai 160 alunni diversamente abili della provincia. Per il sindacato si dovrebbe quindi partire da un impegno collettivo predisponendo le condizioni per la piena partecipazione della persona con disabilità alla vita sociale eliminando quindi tutti i possibili ostacoli e le barriere fisiche e culturali che possono frapporsi fra la partecipazione sociale e la vita concreta di queste persone. La legge riconosce, prosegue ancora il sindacato e tutela la partecipazione alla vita sociale delle persone con disabilità in particolare nei luoghi per essa fondamentale come la scuola durante l'infanzia e l'adolescenza. E la CGL auspica pertanto che anche gli amministratori locali seguano l'esempio del MIUR in materia di integrazione a favore di questi alunni e invita gli uffici preposti ad intervenire al più presto per sollecitare una fattiva e immediata soluzione al grave problema che sta interessando da tempo i 160 alunni diversamente abili. Promosso dal Comune di Vittoria e dal Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale avrà luogo domani al Teatro Comunale di Vittoria un dialogo attorno all'enciclica di Papa Francesco denominata Laudato Si sulla cura della Casa Comune. Un evento inusuale domani sera a teatro per la città di Vittoria ma che riveste un significato particolare ossia una lettura e una riflessione pubblica sull'enciclica di Papa Francesco sulla cura della cosiddetta Casa Comune ad organizzare l'evento Il Comune assieme al Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale Gruppo di Vittoria interverranno tra gli altri il sindaco Giuseppe Nicosia e il vescovo di Ragusa Monsignor Carmelo Cuttitta l'enciclica di Papa Francesco ha commentato l'assessore alla cultura Gaetano Bonetta costituisce indubbiamente una sorta di manifesto della civiltà del terzo millennio ma non è soltanto un'opera teologica intanto è un insieme articolato di parole e comandamenti di vita che fanno della parola papale un modo di stare sulla terra e di vivere il nostro mondo naturale e materiale in sinergia con tutto quanto ci circonda quindi la cura dell'ambiente che il Papa chiama appunto casa comune pertanto sottolinea l'esponente di Giunta e Parina la protezione e la cura della reale natura in cui si svolge la vicenda umana dovranno diventare l'obiettivo strategico dell'umanità che oggi deve misurarsi con la sua consapevole capacità di autoriproduzione o di autodistruzione per cui il messaggio del Papa non è confessionale concluta Bonetta ma oltre alla religione è universalistica e quindi rivolta a tutti è il monito che ci lancia e anche Luce Speranza per provare a risolvere i mille problemi che attanagliano ancora il mondo A Ragusa l'amministrazione comunale ancora una volta a fianco del centro antiviolenza Spazio Rosa gestito dall'associazione Nuova Vita è convenzionato con il comune per attuare interventi in favore delle donne vittime di violenza per sensibilizzare la società verso questa scottante tematica scusate l'associazione Nuova Vita ha deciso di organizzare con la collaborazione del gruppo Iarmonici e il sostegno economico del comune uno spettacolo lirico In programma Vittoria per domenica la prima corsa podistica San Giovanni Bosco vediamo i dettagli Il comitato dei festeggiamenti alla parrocchia di San Giovanni Bosco di Vittoria ha organizzato per domenica 31 gennaio la prima corsa podistica che prende il nome del Santo Le diverse gare per fasce di età prenderanno quindi il via a partire dalle 9.30 davanti alla chiesa in via Giacomo Leopardi L'organizzazione logistica è stata curata dall'associazione No al Doping e alla Droga e la gara principale si snoderà lungo un percorso di un chilometro da ripetere sei volte possono partecipare tutte le società e gli atleti in regola con il tesseramento EPS FIDAL per l'anno 2015 Per quanto riguarda le gare giovanili la partenza verrà data alle 9.45 ed è prevista in questo caso la medaglia di partecipazione e i premi per i primi classificati di ciascuna categoria è prevista anche una passeggiata aperta a tutti i cosiddetti camminatori che faranno cinque giri del percorso e quindi per un totale di 5 km per loro previsti i premi particolari come ad esempio il premio simpatia e il premio età Al termine delle varie competizioni verranno quindi effettuate le premiazioni nella zona partenza-arrivo e interesseranno le categorie giovanili i primi tre classificati assoluti i primi tre over maschili e le prime tre categorie femminili e ora è il momento di rivedere i fatti in primo piano grande partecipazione ieri pomeriggio ai funerali di Giorgio Sailant il vigile del fuoco assassinato domenica sera davanti casa per lui funerali con picchetto d'onore dei colleghi a partecipare una folla commossa di familiari amici colleghi e fratelli della chiesa evangelica frequentata dalla famiglia Sailant fra loro tanto dolore e sgomento per le tragiche modalità che hanno portato alla morte del pompiere a quasi un anno dalla cruente rapina in banca consumata a Comiso il 18 febbraio scorso la polizia di stato ha individuato uno dei responsabili si tratta del 36enne catanese Antonio Infantino l'uomo era entrato a volto scoperto facendo da apripista al complice per poi mascherarsi anche lui pochi frame però sono bastati agli agenti che lo hanno riconosciuto nell'autore di un'altra rapina consumata a Favara individuati dalla polizia giudiziaria quattro scafisti che erano a bordo di altrettanti gommoni sui natanti complessivamente 481 migranti partiti dalla Libia soccorsi e portati al porto di Pozzallo in manette due senegalesi un ventenne originario della Guinea e un nigeriano con il loro fermo sale a 6 il numero dei trafficanti individuati nel 2016 nelle prossime ore intanto arriveranno a Pozzallo altri 230 migranti il sindaco di Vittoria Giuseppe Nicosia torna a lanciare l'allarme sul recente crollo dei prezzi di prodotti ortofrutticoli è tempo di risposte ha detto rivolgendosi ai parlamentari i prezzi ha detto ancora il sindaco hanno raggiunto un livello insostenibile e nessun controllo viene fatto per proteggere i nostri prodotti ortofrutticoli dall'invasione di quelli stranieri Nicosia chiede quindi ai deputati di scendere in campo la FLCCGL di Ragusa torna sulla vicenda della sospensione dei servizi di trasporto ed assistenza specialistica per 160 alunni diversamente abili situazione inaccettabile dicono per il sindacato lo Stato dovrebbe predisporre le adeguate misure di sostegno perché il diritto allo studio degli alunni disabili sia garantito il sindacato auspica quindi che gli amministratori locali non restino a guardare è tutto per questa edizione grazie per averci scelto arrivederci